Partiamo però a parlare del focus del talk di oggi, ho voluto riassumere in questi quattro punti un po' il percorso che faremo in questo intervento, partiremo da una breve introduzione sulle MELOPS, in particolare il continuous monitoring per l'arch language models, passando poi al monitoring delle metriche principali che valutano la bontà dei risultati prodotti da questi modelli e da come è possibile poi andare a identificare in modo proattivo, quindi con uno studio continuo dei risultati dei modelli, e anticipare i problemi su queste tipologie di piattaforme che vengono sviluppate per soluzioni AI a problemi reali, problemi che vengono continuamente posti sotto esame giorno per giorno. E per ultimo parleremo di model equity, quindi con i concetti di fairness e bias, su cui vogliamo dare una piccola introduzione per capire come poter creare un modello e sviluppare un modello più trasparente per l'utente finale. La pipeline di MELOPS si preoccupa di portare un modello da una fase prototipale, quindi uno sviluppo su, per esempio nel caso di machine learning, utilizziamo molto spesso i Jupyter Notebooks, fino a una situazione nella quale tutta la piattaforma è portata in produzione e quindi è robusta ed efficiente per l'utilizzo del consumatore finale. Andremo a parlare oggi dell'ultima fase finale, che viene chiamata model monitoring, e in particolare vedremo concetti come la drift detection e quality of models monitoring. Per la parte compliance e le altre model explanations soprattutto, le trascuriamo per un attimo, però sono comunque molto interessanti e piene di contenuti. Abbiamo cercato di riassumere il nostro intervento attraverso questo schemino, che ci guiderà durante tutte le fasi della presentazione, e vediamo un blocco centrale che è quello su cui ci focalizziamo, inserito all'interno di una pipeline di gestione, a livello sempre di MELOPS, degli algoritmi e dei modelli di large language models. A monte di questo blocco che abbiamo identificato, c'è una parte di model training, model selection, fine tuning e altre tecniche come reinforcement learning from human feedback, che non trattiamo oggi, però appunto abbiamo pensato che fosse interessante menzionarla. A seguito quindi della fase di prompt engineering e di model deployment, è importante avere un sistema, una piattaforma, che permetta di monitorare in modo continuo le metriche più importanti per vedere e prevedere se il modello sta funzionando correttamente. A valle di tutto questo blocco c'è un'altra branca dell'LMLOPS, lo vedremo poi nel talk successivo, ma è sostanzialmente il concetto di MELOPS applicato ai large language models. E, dicevo, questo blocco a valle del blocco che ci siamo proposti di studiare è dato soprattutto da model governance e model security, che sono quelle fasi delle MELOPS che permettono di fare un assessment sulla bontà dei risultati, ma più dal punto di vista della sicurezza. Per prima cosa andiamo a studiare quali siano le challenge che vengono poste, che mettono sotto stress le strutture di MELOPS dai large language models. Per prima cosa sicuramente abbiamo a che fare con una grandissima quantità di dati, questa cosa viene sempre detta giorno dopo giorno, è forse la prima cosa che si dice sempre sugli large language models, ma in ambito MELOPS la challenge è quella di poter fornire l'automazione necessaria su tutti gli aspetti della gestione del large language models. A causa del fatto che abbiamo un modello che genera contenuti e non solo fa predizioni come potrebbero essere di classificazione o di regressione sui dati, non sempre il risultato che otteniamo è buono. Cosa intendo con questo? È soggettivo valutare che questo sia buono oppure no. Perciò non è sempre possibile automatizzare tutta la gestione del modello e perciò esistono delle tecniche anche di human feedback, che pongono sicuramente un limite all'applicazione dei concetti di machine learning operations. In seconda battuta, i large language models devono per forza, per natura, siccome sono così complessi e così grandi, devono per forza lavorare in sinergia con delle infrastrutture complesse. Ovviamente si parla di infrastrutture a livello hardware, quindi potenza computazionale di hardware specifico come le GPU, che necessitano ovviamente di un sistema dedicato, driver e così via, e anche componenti software specifiche come possono essere le soluzioni RAG. RAG sta per Retrieval Augmented Generation e sostanzialmente permette di mettere in connessione un large language model con un vector database, che ovviamente porta un elemento di complessità ulteriore alla gestione di queste soluzioni. Il fine tuning, allora, con la grande diffusione del RAG da un anno a questa parte, il fine tuning è diventato sempre un po' più, diciamo, un po' meno diffuso. Però, nonostante questo, è sicuramente il modo di ottenere delle prestazioni migliori per i large language models applicati a task specifici. E ovviamente questo è un punto molto, molto complesso e da gestire a livello di MLOps. Ovviamente i large language models, come dicevo, pongono nuove problematiche che non esistevano prima per algoritmi di MLOps più classici e portano con sé appunto queste nuove temi da trattare e da essere in grado di gestire con le varie forme di automazione della MLOps. Vogliamo focalizzarci in questa presentazione soprattutto su una questione, la dicotomia tra on-premise versus software as a service. Cosa vogliamo dire con questi due termini? On-premise ovviamente si tratta di modelli che vengono sviluppati in-house, vengono deployati su hardware specifico che viene gestito direttamente dall'azienda e quindi deve incorrere in costi di lancio del prodotto molto alti che però vengono in un certo senso smaltiti poi successivamente perché non esistono costi ricorrenti che invece sono ben presenti nel momento in cui ci si affida a software di terze parti quindi large language model esterni come possono essere i vari provider OpenAI, Antrofic, Gemini anche. Ovviamente l'idea del time to market è importante soprattutto per le piccole e medie imprese che operano sul tema dell'AI perché utilizzare un modello di terze parti quindi costruiti da questi big player è sicuramente molto più efficiente è molto più performante sul breve periodo e quindi andare a mercato è molto più semplice tuttavia questa politica crea una interconnessione tra l'applicazione che andiamo a sviluppare e il software che ci fornisce questo provider quindi la domanda che vogliamo andare a investigare un po' con questo intervento è come facciamo a mitigare questa dipendenza come facciamo a non essere totalmente alla merce di questo servizio di cui usufruiamo e che sicuramente ci porterà valore Per fare questo vogliamo fare una carrellata di metriche su come possiamo andare a valutare un algoritmo generativo un large language model vedremo che ci sono metriche oggettive e metriche soggettive ma ci focalizziamo nel nostro discorso sul primo blocco quindi avremo il nostro focus su human feedback e benchmarking dei modelli di large language models partiamo innanzitutto dando un po' di contesto e focalizzandoci su un problema che è quello dei modelli generativi cioè il fatto che a differenza dei modelli di machine learning classico nella quale era ben chiaro quale fossero le performance e come si potesse valutare le performance soprattutto la bontà dei risultati per esempio nel caso che vediamo qua abbiamo una classificazione tra immagini di gatti che possono essere gatti oppure non gatti è ovvio che si possono calcolare la frequenza di decisioni corrette del classificatore nel caso della generativa AI questa distinzione questa diciamo la bontà del risultato non è più generica non è più oggettiva ma molte volte è specifica del problema che stiamo affrontando è il caso per esempio di quale modello andiamo a scegliere tra da lì mid journey e stable diffusion per la nostra generazione di immagini che vediamo qua il punto sta ovviamente nel fatto che è molto più complesso automatizzare questo processo perché non è più semplice misurare la bontà dei risultati e in alcuni casi ci si deve affidare a un feedback di tipo umano cioè banalmente l'umano guarda quali sono i modelli quali sono i risultati dei modelli e sceglie tra le tre soluzioni che gli sono proposte in questo parallelamente non è più c'è un altro sorge un altro problema cioè quello di scegliere qual è il modello migliore banalmente nel caso della classificazione dei modelli machine learning classici il modello con la performance di accuracy quindi l'accuracy media on average migliore era quello anche il più buono quello più performante in questo caso nel caso della GNI in questo ovviamente non è più vero nonostante questo è possibile definire delle metriche oggettive cioè metriche generaliste che cercano di evidenziare degli aspetti la bontà dei risultati nei vari task che sono stati disegnati apposta per i large language models nel primo nel primo in questo diciamo in questo elenco puntato abbiamo fatto un riassunto delle principali metriche come possono essere e anche la prediction confidence come la perplexity matrix vogliamo stressare in questa situazione il fatto che è necessario fare un assessment di tipo offline cioè viene costruito anzitempo prima del deployment del modello un cosiddetto golden dataset che è un modello di diciamo di dati proprietari di un'azienda che è utilizzato per validare un task specifico questo 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 dataset viene effettato e è utilizzato per dire se il modello è migliore oppure no esistono oltre a questo tipologia di di approccio anche è possibile valutare i large language models su modelli e benchmark pubblici come possono essere GLUE e MMLU e sono delle raccolte di dati che cercano di valutare la capacità del large language model di essere di riconoscere e di interpretare correttamente il linguaggio in modo generalista l'ultima l'ultimi tool che volevamo portare all'attenzione sono dei software come ragas di pivale trulence che permettono di innanzitutto non sono solo software ma sono dei framework cioè dei modi di vedere il problema della creazione della valutazione delle metriche oggettive dei large language model alternativi che permettono allo sviluppatore di scrivere il codice in un modo diciamo predefinito e specifico di ciascun framework per semplificare il semplificare questo tipo di task l'ultimo l'ultima diciamo remark che vogliamo puntualizzare in questa sezione è dedicata alle metriche oggettive quindi generiche e automatizzabili soprattutto è quello è il paper Gival un paper dell'anno scorso che ha fatto da apripista diciamo alla tendenza di utilizzare dei large language model per fare la valutazione dei risultati quindi della predizione della generazione di testo di altri LLM questo sta a significare che in un certo senso è stato per la prima volta possibile sviluppare qualcosa di automatizzabile per la valutazione della bontà delle soluzioni proposte da questi modelli opposto alle metriche soggettive che possiamo utilizzare quindi in questi ambiti ci sono le metriche soggettive le metriche soggettive sono delle metriche che sono specifiche del task quindi in un certo senso noi abbiamo una modello che è in grado di con un certo score con una certa performance di produrre produrre contenuti e essere in grado di interpretare e di ragionare in modo generalista ma vogliamo essere anche in grado di poter dire con le nostre metriche come questo modello si approccia a una soluzione molto più molto più specifica che è poi quello che noi facciamo quando andiamo a prendere un LLM di terze parti e lo vestiamo per sviluppare una soluzione a un problema reale che poi il consumatore l'utente finale può utilizzare per risolvere in questa situazione non abbiamo più una offline evaluation ma abbiamo una valutazione online e tutto questo filone di metriche soggettive è difficilmente è difficilmente automatizzabile proprio perché l'umano deve essere coinvolto necessariamente per andare a a dare un feedback rispetto alle rispetto alle metriche o rispetto ai risultati della genguage model in questo contesto si inserisce il concetto di responsible AI cioè il fatto che è l'umano è l'utente finale a decidere se qualcosa che il modello genera è diciamo harmful cioè gli da un gli provoca fastidio cioè gli da è tossico rispetto alla sua alla sua alla sua persona al suo essere e quindi tutta questa tipologia di metriche che si cercano di attualmente di sviluppare è è volta appunto a risolvere a questo tipologia di questo tipologia di problema quindi dei nuovi problemi della tossicità dell'allucinazione dell'accountability del quindi chi è responsabile per i risultati prodotti dall'LLM quindi una volta che ci siamo armati di questi strumenti che è possibile implementare in modo sia automatico che non è possibile fare uno step successivo e andare a evidenziare in modo proattivo attraverso il continuous monitoring quando le performance del nostro large language model di terze parti o comunque in generale questa è una soluzione che può essere corretta anche per modelli on premises quando queste performance degradano e in questa parte ci focalizziamo sui concetti di model migration data drift e functional drift e partiamo inizialmente a parlare di migration o model drift questa immagine spiega chiaramente di cosa stiamo parlando cioè il fatto che noi abbiamo sviluppato un'applicazione che risolve un problema reale questa applicazione si affida a un LLM di terze parti cosa succede nel momento in cui l'LLM di terze parti cambia il checkpoint che noi andiamo ad interrogare attraverso le nostre API innanzitutto ovviamente questo dovrebbe essere in linea di principio dovrebbe essere fatto in modo trasparente verso l'utente quindi verso lo sviluppatore dell'applicazione e OpenAI lo fa rilasciando delle note di deprecazione ovviamente molto spesso allo sviluppatore medio le note di deprecazione passano un po' sotto traccia questo è successo è una cosa che è successa anche nella nostra azienda ed è diciamo uno spunto per essere più attenti riguardo a questa tematica perché è successo che appunto nel momento in cui la nostra applicazione era dipendente da questa da questa API a un certo punto abbiamo notato un netto calo delle performance e dopodiché ci siamo accorti appunto che il modello il checkpoint sul quale facevamo affidamento era stato era stato cambiato e in particolar modo nel task specifico che noi andavamo a affrontare con la nostra con l'utilizzo della nostra applicazione il modello che era stato fornito sostituendo quello originale aveva delle performance peggiore quindi torniamo sempre un po' al fatto di dover prendere i modelli con le pinze diciamo perché questi large language models sono in grado di fare quindi sono in grado di sostenere di affrontare una quantità di task molto grande però non è detto che in tutti i task questi siano i migliori quindi in genere quando un software quindi quando un software viene un API viene rilasciata quindi viene aggiornata si opta per un modello più performante ma più performante in media e non per gli specifici task che noi dobbiamo andare a studiare perciò una una buona pratica sicuramente ambito model ops o lm ops che dobbiamo applicare per ottenere per mitigare appunto questa dipendenza comunque proteggerci verso il model drift è quello di andare a valutare il task specifico che stiamo affrontando e non utilizzare semplicemente benchmark generalisti o generali ecco tutto in questo in questa slide abbiamo deciso di linkare appunto questa risorsa un articolo che suggerisce che c'ha GPT nel tra il marzo 2023 e giugno 2023 ha cambiato effettivamente il proprio il proprio comportamento le risposte alle domande che semplicemente dava quindi questo per dire che le API sono in continua evoluzione è una cosa non banale rendersene conto e sicuramente è una cosa non banale accorgersene nel momento in cui succede questo questo model drift la seconda tipologia di performance degradation è improntata sui dati invece cioè il concetto di data drift abbiamo delle query in genere quindi delle domande che vengono poste all'LLM generalmente e l'LLM di solito è in grado di rispondere in modo corretto a queste domande cosa succede nel momento in cui l'LLM che abbiamo sviluppato che utilizziamo nella nostra applicazione viene utilizzato per cose che sono diciamo veramente diverse e ovviamente le risposte a queste domande nuove sono un'incognita le performance su queste domande nuove questo può succedere spesso quando non implementiamo correttamente il guardrail della nostra applicazione cioè quando permettiamo agli utenti di fare domande per il quale l'applicazione non era pensata e soprattutto nel momento in cui si va a diffondere la notizia che appunto la nostra applicazione può permettere di rispondere può permettere di dare accesso dei dati che sono differenti rispetto a quelli originali si si può vedere immediatamente che la tipologia di domande scittano verso un'altra direzione come facciamo a vedere questa cosa possiamo abbiamo due tecniche la prima è quella di creare un dataset di query e di risposte e embeddarle con un modello di embedding e andare a valutare la statistica quindi la distribuzione di probabilità di questo campione nello spazio di embedding per andare poi con algoritmi tradizionali di clustering a vedere banalmente se esiste un nuovo cluster oppure se è cambiata un particolare parametro di distribuzione come può essere la media o la mediana nel caso nel secondo caso è questa l'approccio molto simile ma si ci si focalizza sull'estrazione di feature discrete e ingegnerizzate che possano delle quali possiamo monitorare le statistiche sia in modo automatico quindi con un LLM ausiliario sia in modo manuale attraverso un feedback dell'umano e entrambi questi link mostrano delle soluzioni alternative l'ultimo tipologia di drift che vogliamo presentare è il functional drift in questo caso abbiamo a che fare meno con la componente modellistica quindi con le tipologie di risposte tipologia di input del modello ma più con l'infrastruttura che ospita il modello e quindi dobbiamo andare a monitorare in modo continuo delle quantità che ci permettano di valutare l'impatto sui costi che ha la nostra applicazione quindi banalmente il volume delle richieste come il numero di richieste e il numero di token utilizzati e anche parallelamente l'impatto che queste quantità hanno sulla user experience ovvero in particolare per quanto riguarda il tempo di latenza delle risposte che otteniamo perché ovviamente se la latenza è molto alta quindi una persona fa una domanda banalmente e ci vuole molto tempo per ottenere una risposta è ovvio che la user experience è peggiore otterremo in prima battuta anche un calo dei consumatori degli utenti è importante andare a monitorare anche le tipologie di errori quindi andare a mantenere un un astorico attraverso dei log quindi attraverso un'infrastruttura che che permette di raccogliere questi questi log e anche i feedback che gli utenti stessi danno alle risposte del modello per poter andare poi a analizzare retroattivamente in modo efficiente efficace gli errori che sono stati fatti quindi banalmente il fatto che il modello non fosse disponibile in certe fasce orarie oppure il fatto che le risposte fossero completamente errate insomma queste tipologie di cose possono succedere e vanno monitorate e per ultimo il piano dei costi se ci affidiamo a LLM di terze parti è importante non fermarsi a quanto mi costa oggi quindi per esempio una subscription ricorrente della mia applicazione oggi mi costerà X ma non è detto che nel futuro continuerà a costare X al momento vediamo una un trend decrescente di di costi per le i piani tariffari di di utilizzo di LLM dai provider più più grandi ovvero che nel momento in cui viene creato un nuovo modello ovviamente quelli precedenti vengono deprecati però ovviamente questo non possiamo sapere come questo trend continuerà nel futuro perciò è importante monitorare questi cambiamenti in modo continuo l'ultima sezione di questo talk vorrebbe fare un'introduzione a un altro concetto di monitoraggio degli LLM che tratta la questione della trasparenza e dell'equità ovvero esistono dei tool la domanda è esistono dei tool che permettono di capire se esistono dei bias all'interno delle risposte cioè il mio modello dà delle risposte che sono sistematicamente orientate verso qualcosa di scorretto e per farlo è possibile utilizzare degli algoritmi è possibile utilizzare dei framework un algoritmo che vediamo qua sotto è si riferisce appunto questo articolo di bias ma in generale quello che dobbiamo andare a fare è andare a semplicemente a contare cioè come la risposta come faccio a valutare questo questo concetto molto astratto è contiamo la frequenza di opinioni biased che otteniamo in risposta alle nostre domande sul totale delle opinioni che vengono generate e per farlo è importante è importante andare a stabilire a definire cosa si intende per opinioni e quali sono i tipi di bias che devono essere rilevati innanzitutto la definizione di opinione è qualcosa un giudizio o insomma un pensiero personale che non è verificabile non è un fatto verificabile e che viene generato dall'LLM probabilmente perché molte volte l'LLM è ansioso di dare una risposta all'LLM è stato creato apposta per diciamo compiacere l'utente e quindi piuttosto che dire non lo so dice crea un'opinione crea un'allucinazione e in alcuni casi anche delle appunto delle opinioni che sono biased come come si fa a definire appunto che una cosa è biased esistono diversi tipologie in genere di bias comuni ne abbiamo elencate alcuni in questo primo elenco puntato cioè bias di tipo come di stereotipi bias sul genere quindi maschile o femminile bias politici geografici o di razza esistono basta comunque comunque è importante conoscerli e basta cercare google appunto alcuni esempi sono subito sono subito riportati ecco una cosa interessante da sottolineare è che il diciamo le opinioni non sono gli statement che sono erronei non sono opinioni sono semplicemente sono semplicemente degli errori e allo stesso tempo risorse che vengono citate che contengono opinioni soggettive non sono contate come opinioni per ultimo vorrei concludere facendo proponendo alcuni tool di monitoraggio che sono disponibili disponibili come software appunto nella maggior parte di questi casi anzi in tutti questi casi che abbiamo trovato abbiamo dei tool che sono a scopo close source quindi sono a pagamento proprietari perché per la maggior questo tipologia di studio quindi questo monitoring degli LLM è diciamo una branca abbastanza nuova è quello che vogliono fare le aziende ovviamente al momento è monetizzare su questo tipologia di prodotti però in generale quello che fanno sono tutte quelle di creare una piattaforma un framework per fornire una user interface all'utente che gli permetta di monitorare appunto le cose che abbiamo descritto quindi data drift model diff functional drift con tutte le metriche anche custom che si possono implementare vi ringrazio sono aperto a domande e discussioni nel caso ce ne fossero allora ciao Marco intanto e grazie perché il talk è stato illuminante sotto il punto di vista proprio del monitoraggio di questi modelli perché spesso è un aspetto che ci si dimentica di tenere in considerazione quando invece è estremamente importante allora fammi vedere se ci sono domande dal pubblico ma mi sembra di no al momento quindi te le faccio intanto una io allora ci sono tu ti sei focalizzato tanto sul concetto di data drift in realtà a volte anche guardando online ci sono per esempio dei problemi nel distinguere data drift e concept drift secondo te il confine qual è? ma diciamo che diciamo che per queste tipologie di modelli è molto è molto labile molto labile questo confine e di sicuro si parla si parla di le distribuzioni delle distribuzioni in input e di sicuro anche di quelle in output cioè nel momento in cui vado a vado a devo andare a monitorare come sono fatte le distribuzioni in input può darsi che il mio modello dia delle risposte diverse in output e anche il fatto di il fatto di avere questi modelli sono probabilistici per natura e il fatto che questi modelli siano probabilistici non mi permette di fissare a pari input un output un output desiderato quindi tutte queste cose sono sono difficili da sono difficili da monitorare sono difficili da misurare diciamo che per questo motivo questi due concetti sono diciamo interconnessi però appunto abbiamo cercato di definire una delle metodologie per andare per andare a misurare in modo quantitativo il più possibile ecco ok perfetto ti ringrazio non so appunto non mi pare che siano arrivate al momento altre domande dal pubblico ma direi anche che sia stato talmente tanto chiaro che effettivamente avere dubbi è difficile ti faccio un'altra domanda io ne approfitto secondo te la direzione che potrebbero prendere le ricerche in ambito istituzionale non per quanto riguarda gli LLM quali potrebbero essere ma allora diciamo diciamo che c'è una tendenza nell'ultimo periodo anche con il recente rilascio del nuovo modello di OpenAI una tendenza a uniformare questi modelli a prendere l'input diverse tipologie diverse modalità di dati che possono essere inizialmente ovviamente il testo per come è stato costruito sono stati costruiti gli LLM ma vengono applicati a diverse ambiti come possono essere le immagini e il suono quindi la ricerca nell'ambito anche Melops e di queste metriche credo che si orienterà verso comprendere meglio come è possibile valutare in modo più oggettivo possibile questa fusione delle diverse modalità quindi una multimodalità in secondo luogo abbiamo abbiamo cercato di stressare anche durante la presentazione in modo cioè il più possibile il fatto che la difficoltà di queste operazioni sugli LLM è data dal fatto che l'automazione non sempre è possibile perché abbiamo a che fare con dei task che sono specifici e è difficile estrarre l'umano quindi il feedback dell'umano dal loop e quindi andare verso una direzione in cui si capisce come togliere l'uomo e quindi velocizzare ancora di più automatizzare ancora di più tutti questi processi è cruciale ok allora ti ringrazio intanto per aver risposto a queste domande e anche per la disponibilità per aver partecipato all'evento perché è stato è stato l'ennesimo intervento interessante di questa di questa giornata quindi grazie ancora del tuo tempo Marco grazie mille è stato un piacere grazie mille 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 grazie mille